La missione in Kazakistan che si terrà dal 20 al 23 di maggio fa seguito all'incontro che abbiamo fatto a ottobre con l'ambasciatore plenipotenziario del Kazakistan Italia qui a Piacenza. L'obiettivo è di dare delle possibilità di business ai nostri imprenditori. Abbiamo in questi mesi cercato di incontrare la domanda e l'offerta facendo un'analisi preliminare per fare in modo che gli incontri che faremo ad Astana in Kazakistan siano incontri B2B e quindi diano la possibilità ai nostri imprenditori di fare vero business. È un'opportunità che diamo agli associati a Confapi Industria ma non solo, quindi è un appello che lancio anche agli imprenditori piacentini. In particolare penso che i settori più interessanti siano quelli dell'olio in gas e dell'agroalimentare.